Bambole, pinocchi, robot, giocattoli di latta e di legno, teatrini di burattini e marionette, sono oltre mille divisi per aree tematiche e cronologiche, gli esemplari in mostra al convento di San Domenico Maggiore per la rassegna storie di giocattoli dal 700 a Barbie. Inaugurata oggi in anteprima, l'esposizione sarà aperta da domani fino al 19 marzo e raccoglie manufatti ingegnosi e rari provenienti dalle fabbriche del gioco di Europa e oltreoceano. A collezionarli con passione e competenza è Vincenzo Capuano che a San Domenico Maggiore mette in mostra buona parte dei pezzi che hanno dato vita al Museo del Giocattolo dell'Università Sororsola Benincasa. Uno spaccato di bellezza però non solamente, vedranno anche qualcosa che è molto importante dal punto di vista culturale perché racconta la storia dell'uomo, perché i giocattoli raccontano la storia dell'umanità dal punto di vista sociale, dal punto di vista delle differenze dei generi, dal punto di vista della storia economica, politica, quindi un percorso anche molto lungo che parte dal 900, quindi da Barbie e arriva fino al 700. Vedremo bambole, teatrine, vedremo macchinine, giocattoli in latta, in legno, cavallini, oggetti diciamo di vario genere, varie marche con tantissimi meccanismi, quindi qualcosa che farà felice i bambini, i piccoli, però penso anche i grandi. La mostra è un vero e proprio viaggio nell'immaginario ludico che va dall'età dei lumi e arriva alla cultura del benessere del secondo 900 e promossa dall'assessorato alla cultura e turismo del comune nell'ambito della rassegna Natale a Napoli dedicata quest'anno proprio al tema delle pazzielle. Non a caso abbiamo deciso di dedicare questa bellissima mostra a Luca De Filippo, un anno dalla scomparsa, utilizzare come simbolo di questa mostra e di questo Natale lo strumolo. La mostra è veramente qualcosa di straordinario, imperdibile. C'è veramente qui la raccolta di giocattoli di ogni tempo con tante forme, tante occasioni di suscitare, stimolare fantasia, quindi spero veramente che questo complesso conventuale, questo magnifico monumento di Napoli durante il periodo di Natale si riempia di famiglie, cioè di genitori con i bambini e anche questo credo che sia un messaggio importante. Accanto alla mostra principale è allestito un percorso espositivo con i giochi contraffatti sequestrati dalle forze dell'ordine, a cura dell'Associazione Museo del Vero e del Falso insieme alla Procura della Repubblica di Napoli.